Ministro, Alesson Tour, diciamo appunto i riflettori sul mezzogiorno. Ecco, quanto è importante, specialmente in questa fase economica difficilissima, che vengano centrati gli obiettivi del PNRR per il Sud, per l'intero sistema paese? Naturalmente è molto importante, ma oltre al PNRR ci sono molti altri investimenti che abbiamo immaginato per il mezzogiorno, completare l'alta velocità da Salerno a Reggio Calabria, ulteriori investimenti sui porti, oltre a quelle del PNRR e sui retroporti. L'interconnessione ormai è qualcosa che sta diventando un mantra su cui tutti hanno non solo riflettuto, ma hanno capito l'importanza in questo momento. Anche perché con la crisi in Ucraina c'è un ripensamento degli scenari macroeconomici e delle relazioni tra l'Unione Europea e le altre parti del mondo e io credo che ci sarà un'attenzione crescente verso i Balcani, verso l'Africa, verso l'India e i paesi arabi. Quindi l'Italia non solo può essere un luogo di passaggio importantissimo per il Mediterraneo, ma può essere un luogo di produzione. E qui dove il reshoring che molte imprese stanno facendo, cioè tornare in Italia per produrre, può essere un'opportunità aggiuntiva per il mezzogiorno grazie proprio all'investimento sulle zone retroportuali. Ecco, in questi scenari, anche complessi, con l'inflazione che aumenta, diventa complesso anche per tutte le aziende del settore del mondo del trasporto andare verso quella transizione ambientale che è, diciamo, irrinunciabile. Mare bonus e ferro bonus sono da incentivare in questa fase in attesa di altre misure? Ma io vi invito ad andare oltre questa riflessione e lo dico perché da un lato è evidente che moltissime imprese stiano scegliendo il trasporto su ferrovia e su mare rispetto al trasporto su gomma autonomamente. A Davos, al World Economic Forum, parlando con i grandi operatori internazionali, questa scelta è chiarissima. Allora non si vede perché dovremmo andare a dare degli incentivi a imprese che comunque stanno andando in quella direzione.